Per lo specializzando di aria non chirurgica abbiamo voluto creare appositamente un prodotto di basso costo proprio perché abbiamo voluto creare la differenza che ci può essere fra quelli che sono di aria chirurgica e non chirurgica, considerando che il medico di aria non chirurgica corre dei rischi sicuramente inferiori rispetto a quello di aria chirurgica, quindi abbiamo ritenuto che giocando sul massimale che è leggermente più basso dell'altro potessimo ottenere anche una scontistica superiore, questo appunto per agevolare la copertura assicurativa del medico. Il pacchetto quindi è composto da una polizia di responsabilità civile con una retroattività di 5 anni e una tutela legale con un massimale da 50.000 euro che prevede al suo interno la possibilità poi alla fine della specializzazione di avere una continuità di polizia, quindi poi il medico quando si specializza può decidere continuando la sua polizia di avere una retroattività pari agli anni in cui era specializzando qualora gli dovessero arrivare richieste relative a quel periodo appunto precedente.